come va? Sara, sono Lorenzo, il papà di Daniele, si, ti ricordi? Senti, mi passi papà per favore? il micio, come fa il micio? Miau miau! Come fa il grillo? Ma il grillo fa cricrilo, sai, no? Sì, sì, no, tu adesso passami papà! Come fa la pecora? La pecora fa beh, il gallo fa cricchirichi, come fa? Sara, ti prego, passami il papà, i-o, l'asinello fa i-o, lo sai questo, no? Ma non li conosco tutti! Da anni ormai Salina era dominata dai figli unici, ogni famiglia, il pulcino fa bio bio, ogni famiglia aveva un figlio, un figlio solamente, a cui veniva affidato il comando della situazione. Ormai era praticamente impossibile comunicare per telefono perché nelle case gli apparecchi venivano subito intercettati dai bambini che per ore... Ciao, sono Rosanna, mi passi la mamma o il papà? Ci sono? Ora ti posso papà, ciao! Paolo! Giovanni! Leandro, mi riconosci? Come mi chiamo? Pronto, riparla? Io sono Paolo! Come ti chiami? Quanti anni hai? Mi riconosci? Come mi chiamo? Mi chiamo Franca! Come fa il maialino? E l'icopodo, ma come fa? La giraffa, non lo so! La giraffa, non lo so! La rondine, non la so! Senti, chi c'è a casa? Mamma o papà? No, papà so il caccia, però io adesso ti racconto una favola! Capisci quello che dico? Non bene, si racconta! Mi capisci quando parlo? Ti passi la mamma? La maialino! Pagliallino! Mi